Il portiere di Lecce Il portiere austriaco è difficile per via del suo ingaggio. Una soluzione per portare Manninger in giallorosso sarebbe quella di convincere la Juventus a partecipare al suo ingaggio, ipotesi da scartare in realtà perché la Juve vorrebbe vendere il portiere, non contribuire allo stipendio di un calciatore di 34 anni, sebbene in un'età in cui la carriera dei numeri 1 è all'apice. Sembra di più facile attuazione una trattativa con la regina per Pugioni. Il direttore sportivo Carlo Osti sembra preferirlo a Frison. Notevoli potenzialità ma ancora non pronto per la Serie A. Con la regina si potrebbe avviare una trattativa sulla base di una comproprietà da rivedere il prossimo anno quando si conosceranno i destini delle due squadre. L'ultimo campionato si è chiuso con un dato significativo. La difesa giallorossa è stata la peggiore del campionato con 66 gol al passivo. Meglio forse non si poteva fare considerando che De Canio ha potuto contare su 5 giocatori esordienti, Donati, Ferrario, Brivio, Gustavo e Mesba, senza considerare che Fabiano e dopo Tomovic e anche Giuliatto non avevano un bagaglio di esperienza pesante e da permettere all'intero reparto un rendimento proficuo e costante. L'ex difensore, tra le altre di Juventus e Torino, Pasquale Bruno, non ha dubbi sul reparto da rinforzare. Credo che i numeri parlino chiaro. L'attacco va bene così, ha fatto 45 gol. La difesa è stata la peggiore forse nella storia del calcio italiano, la peggiore difesa di tutta la storia, quindi va rinforzata assolutamente la difesa. Negli ultimi 4 campionati di Serie A, 20 squadre, solo la formazione allenata da Zeeman ha fatto peggio di quella di De Canio, con 73 gol subiti rispetto ai 66 incassati dalla squadra del tecnico Materano. Qualcuno ha fatto notare che quest'anno si è salvata la squadra con la difesa peggiore di Serie A, ma anche quella che ha chiuso il campionato con il decimo attacco più prolifico. Sarà rinforzato anche il centro campo, dove si è registrata la partenza di Giovanni Munari. Io l'avrei tenuto perché è un giocatore costante, di grande rendimento, attaccato ai colori giallorossi, quindi l'avrei tenuto. Olivera, Vives e Giacomazzi potrebbero formare una delle linee mediane che disegnerà Di Francesco, anche lui, all'esordio in Serie A. Di Francesco può valere tanti altri allenatori come Osti, quindi dobbiamo valutarli strada facendo.